Dio esiste e vivi a Bruxelles. Legge 2129. Quando un corpo si immerge nella vasca da bagno, il telefono squilla. Legge 2128. La fila di fianco avanza sempre più veloce della tua. È disgustoso, non le conosci neanche e ti diverti a fargli del male. È vietato entrare nel mio studio. È esattamente in quel momento che mi sono decisa a fare qualcosa. Sai cosa ha fatto tua figlia? Arriverà a tutti le date di morte! Cosa fare della vita che ci resta è la domanda che sta spopolando sui social. 62 anni da vivere! Test! Oh, cazzo! Dice che gli piaci molto. Cerca una ragazzina da fare così, poi ripieta. Hai dei poteri, tuo padre, come un supereroe. Non costringhermi a seguirti! Dio dice, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma gli dita una cosa, signora. Ma quello lì ha perso la bussola. Non lo sai chi sono io? Non lo sai! Che diavolo succede qui? Sei già rientrato. Ciao, sono sempre io, Kevin! Ciao, sono sempre io! Ciao perché! Grazie a tutti.